Mi pare che, sì, elementi particolari, una famiglia tranquilla, insomma, io per quello che modo di conoscere, di vederli o di incrociarli, insomma, in particolar modo cinza, ma ricapitava, rientro l'uscita dal lavoro, insomma, ci si incrociasse, ma famiglia tranquilla. Mai un litigio? Beh, quanto possa risultare a me, mai, insomma, nessun elemento, ma neanche una mezza parola, sì, sentita mai di una situazione o cose di questo tipo, perché adesso sono lì in attesa di capire un po' la ricostruzione di quello che può essere successo. Mi pare che adesso, sì, in questi momenti, insomma, ci sono, io ho attraversato la piazza e ho sentito cinque storie e cinque ricostruzioni diverse, no? E quindi penso sia giusto per rispetto di chi sta soffrendo adesso, sì, avere elementi certi.